Il teatro Diego Fabri e la chiesa di San Giacomo a Forlì ospiteranno tre grandi eventi, racchiuso nell'importante contenitore del Ravenna Festival. Il 5 luglio un gruppo di jazzisti metterà in scena Amore che vieni e Amore che vai, un live sulle canzoni di De André dedicate alle donne. Il 7 luglio è la volta del gospel dei Chicago Children Choir. Dulcis in fundo, il 9 luglio un ospite d'eccezione, Anushka Shankar. Quest'anno il tema è la rivoluzione e uno dei progetti del festival è dedicato all'India. Se il tema è anche la rivoluzione, perché l'India ne rappresenta un degno candidato? L'India nasce come Repubblica 70 anni fa a seguito di una rivoluzione pacifica capitanata dal Mahatma Gandhi, quindi è stato l'esito di una rivoluzione quieta. Poi perché l'India ha innescato una rivoluzione musicale fondamentale per il secolo passato che arriva a fine nostri giorni proprio con l'incontro tra un personaggio come Ravi Shankar e gli Udi, un grande musicista classico, gli Udi meno in prima, ma soprattutto attorno al 65-66 con i Beatles, quindi con George Harrison e da lì sono nate grandissime cose che vogliamo celebrare a 50 anni da un disco straordinario come fu Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band.